Da 1952, ed era un provvedimento che mi ha visto firmatario, è stato un atto di grosso coraggio, ma ben studiato, perché di fatto ha riaperto lo sport, lo sport anche a livello individuale, ma anche all'interno dei centri sportivi, laddove ci si muoveva veramente sul filo di lana rispetto al DPCM di Conte che teneva chiusi i centri sportivi e gli impianti sportivi. Che si è voluto cogliere? Che innanzitutto se una persona fa sport a livello individuale deve raggiungere il posto idoneo per fare sport e lo può fare con autonomia, con la propria macchina all'interno del territorio regionale. Lo può fare facendo e portando avanti quegli sport che non hanno un impatto in termini di rischio coronavirus. Quanto ai centri sportivi si è fatto riferimento non alla riapertura evidentemente dei centri di aggregazione, delle situazioni comuni, tanto meno delle docce, spogliatoi, bar, clubhouse ed altro, ma se due persone con la loro sacca, senza farsi la doccia, vanno a giocare a tennis, che quindi garantisce 22-23 metri di distanza, il rischio del contagio è prossimo allo zero. Un patto che si fa con noi stessi e con la nostra coscienza, se noi allarghiamo un po' le maglie, perché l'alternativa sarebbe la morte civile, economica, sociale, certamente accettiamo anche un minimo rischio in più di contagio, perché azzerare il rischio di contagio quando si sono allargate le maglie, quando la gente può riuscire, è assolutamente impossibile. Il resto degli sport individuali che vengono quindi svolti senza impianti sportivi, quindi stando all'aperto, penso al ciclismo, penso ai ciclamatori, ma penso anche alle formi di corsa, pedonale, jogging ed altro, stanno andando fortissimo e c'è un nuovo equilibrio psicofisico che stiamo raggiungendo. Se è uno sport di squadra togli il contatto, togli l'abbraccio, togli la condivisione di un momento, anche con un contatto fisico hai tolto tanta parte del bello dello sport. È evidente che dovremmo cominciare o continuare a convivere con questo tipo di misure fino a che non ci sarà il vaccino, quindi un po' cambieranno le abitudini a 360 gradi e anche lo sport, ahimè, dovrà adeguarsi, spero non per sempre. Certamente chi sta subendo particolarmente questo tipo di misure sono gli sport di squadra e gli sport di contatto. Altra difficoltà ce l'hanno avuta e l'hanno ancora le piscine. Per un motivo molto semplice, le piscine non sono delle piste di atletica che poni le catene al cancello e impedisci l'ingresso. Gli impianti natatori devono essere comunque tenuti in funzione. Su questo ci stiamo basando, provando a parametrare gli aiuti che possiamo dare allo sport abruzzese andando a toccare e a curare le ferite di chi sta subendo maggiormente l'impatto e le conseguenze negative delle misure di contenimento del coronavirus.